Chi non vorrebbe avere uno strepitoso boss come lui dentro casa? In molti sicuramente direbbero di sì. Rocco Papaleo è irresistibile, l'attore è uno dei protagonisti di Un Boss in Salotto, il nuovo film di Luca Miniero, regista già campione di incassi con Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord. La pellicola è inaugurato il primo dell'anno con il botto, guadagnando immediatamente la prima posizione assoluta e mettendo a segno al suo primo giorno nelle sale un incasso di oltre un milione e mezzo di euro. Nel cast è il bellissimo e bravo Luca Argentero, tra i più desiderati.